Alla scuola media statale poliziano a Firenze qualcuno insegna ai ragazzi la condanna rispetto al perdono, confondendo i peccati presunti con i reati conclamati. Nasce così l'inferno dei famosi, che condanna il boss mafioso Totò Rina come iracondo accanto a Massimo Ceccherini e Murigno. Fra i lussuriosi troviamo Piero Marrazzo, il presidente della regione Lazio di Messosi per aver frequentato una transessuale e aver poi denunciato due polizotti che lo ricattavano. Ancora più grave la condanna per lussuria, cioè per abbandono al piacere sessuale di Vladimir Luxuria, una donna nata uomo che semplicemente ha scelto di ristabilire il suo sesso con un'operazione. E poi la condanna per gola ad Antonella Clerici. Eppure in una società che cerca di relegare la donna a modella anoressica, la presenza di una donna brava, intelligente, formosa, andrebbe eventualmente indicata come esempio di successo e non come una viziosa del cibo da condannare.